Qua c'è il meteo che uso perché voglio vedere tipo domani c'è un alert meteo per caso così non si va a scuola 3, 2, 1, go, buongiorno ragazzi ragazzi oggi sono ritornata con un nuovo video questo video si tratta di un what's my iPhone che mi avete richiesto in tantissimi e quindi oggi ve lo ho riportato sul canale allora iniziamo subito non ci prendiamo in chiacchiere vi voglio solo dire che questo qui è un'altra notte che mi è stato regalato a Natale penso che la cover la conoscete tutti perché no vi sto il video andatelo a vedere allora iniziamo che quando facciamo tipo così troviamo subito Youtube al primo perché Youtube è la nostra vita cioè la nostra Magic Family è mia di Lalle e quindi si quindi io lo metto sempre al primo posto Youtube e niente poi sempre dopo c'è il calendario in cui mi porta i giorni quindi tipo oggi è oggi è non so oggi sono un po' ecco oggi è il 12 quindi me l'ha portato tutto ciò poi c'è la galleria delle foto c'è la fotocamera in cui ho fatto già qualche video c'è qualche foto e tutto poi poi ho le mail solo che io le mail non le uso quindi sinceramente passiamo avanti poi l'orologio che uso tipo per fare qualche sfida con l'alle con il cronometro e tutto poi c'è il map che è un'altra app che non uso molto spesso cioè anzi non uso poi c'è il meteo che uso perché voglio vedere tipo domani c'è un allerta meteo per caso così non si va a scuola infatti vado sempre a vedere che non c'è nessun allerta meteo poi c'è nota che per ora non l'ho ancora utilizzato quindi non è ancora... ah poi che non è ancora molto aggiornato e vi voglio dire che non vi faccio vedere le app perché non sono ancora tutte aggiornate come si deve perché hanno ancora qualcosa da sistemare, hanno ancora qualcosa da sistemare e tutto e niente poi abbiamo questa che non uso non uso e anche qui tv non uso, non uso, app store la uso perché infatti tra poco arriveranno i giochi cioè tra poco poi c'è libri che non uso, salute che non uso, casa che non uso queste qui che non uso, non so come si chiamano impostazioni che uso per fare certe cose perché ogni tanto voglio collegare tipo l'erco di silal e il mio telefono e quindi li colleghi queste poi aspetta facciamo prima poi c'è il festein e tutto in cui posso fare dei video che mandi con qualcuno che vabbè poi abbiamo la cartella giochi in cui ho scaricato tipo 1.400.000 di giochi scherzo tipo magic tiles 3 un sacco di cose belle che appena vedo, oh mio dio questo deve essere il mio e poi un gioco mio preferito non lo so Star Wars non sa per dirvi ho scaricato alcuni giochi che sono vecchi di 3 3 miliardi di anni fa tipo Tempere 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 Round il primo gioco appunto è stato questo qui che vedete con lo squalo che ora non so come si chiama poi il secondo è stato Tempere Round Sub and Surf il terzo Magic tiles 3 vabbè poi andiamo alla seconda cartella dei giochi alla seconda e troviamo quello io quattro immagini però una parola la però wow un sacco di cose poi ho altri giochi che mi attirano quindi mi scarico e poi un'altra cartella è basta che alcuni giochi di questi tra cui blend tipo devo ancora utilizzarli tipo poi che c'è solo questo devo solo riutilizzare devo vedere come si utilizza e poi questa è stata una cartella giochi che si poi qui c'è una lampadina che non so come suggerimenti però non la uso neanche questa la uso dove e neanche questa la uso comandi e no contatti non so perchè non l'ho mai aperte quindi non ho ancora fatto alcune cose sempre poi watch penso che no perchè non ho un prodotto poi qui abbiamo un'altra cartella aspettate voglio dire nooo no aspettate voglio dire un attino cosa non si occhi poi sempre qui abbiamo la cartella memo vocali si questo ogni tanto lo uso pure per fare delle cose di canto la bussola che non uso perchè sta qui e il metro l'ho usato una volta sul tablet prima di avere questo telefono e sinceramente non so che serve molto però giusto per le curiosità poi ho la calcolatrice che mi serve ogni tanto per fare per fare qualcosa tipo per fare qualche calcolo e tutto però si i calcoli prima me li faccio e poi dopo vedo se ho sbagliato e poi è sempre corretto poi andiamo a apple store che non lo uso clips non lo uso 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 poi questo neanche uso google che non so pronunciarlo perchè perchè è un comunque già lo sto usando molto bello cioè ho un'altra cartella qui si allora poi social andiamo su social instagram tiktok si anche se non tiktok e comunque sto usando molto youtube e tiktok quindi in questo periodo e poi qui abbiamo tipo tutte le app uber david poi play amazon che devo comprare oh mamma una cosa e babbo la batteria di scarica poi abbiamo mcdonald's e poi burger king italia poi per ultimo abbiamo netflix che è un'app che anche uso pure sulla televisione e poi abbiamo il telecomando che uso per la sera quando non troviamo il telecomando poi abbiamo whatsapp la bussola qua come si chiama il telefono tipo e poi questo coso qua comunque raga questo era il mio what's my iphone quindi spero che vi sia piaciuto la prossima volta ve lo farò vedere nei minimi dettagli e niente io mando un bacione a me e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao